Siamo qui in Moldavia da più di vent'anni, adesso ci troviamo qui al centro profughi di Kishnel, la gente sta arrivando ancora, nel frattempo abbiamo allestito un piccolo spazio di giochi per i bambini in modo da rendere più allegra la loro permanenza qui. Grazie al vostro sostegno riusciremo di più.